No, Zoe sta per morire! No! No! Oggi siamo in un hobby dove dove dovevo scappare dall'ospedale, Zoe! Ecco, iniziamo pure male, pure male! Ok, pronta, dobbiamo sbrigarci, non abbiamo tanto tempo! Ok, eccomi! Andiamo, sbrigiamoci! Wow! Ma cosa... Oh mio Dio! Non è possibile? Un piccolo terremoto qua e si è... Sì! Si è fatto tutto! Sì, infatti! Ok, attenta a non cadere nelle parti rosse! No, no! Ecco qua! Non cadrò mai nelle parti rosse! Dove ci troviamo? Guarda! Una zonera GX! Infatti! Oh cavolo, aspetta, stai attenta! Qua ci sono un po' di ossa! Già! Che dobbiamo sfruttare per saltare per bene! E credo che siano pure delle gambe! Aspetta, stiamo saltando sopra delle gambe! Com'è possibile questa cosa? Oh cavolo, attenta qua! Ok, vabbè, questo è tipo la roba della GX che parte e va verso il corpo! Sì, è vero, hai ragione! Ok, ok, andiamo! Oh, ma dove ci troviamo? Non voglio morirci in ospedale! Anche se credo che sarebbe praticamente il nostro futuro, tra non molto! Spero di no! No, tra non molto no, magari! Infatti sì, parlo di cosa stiamo parlando! Tra non molto, mamma mia! Eccoci, ci siamo! Oh, cosa... Oddio! Cosa è questa cosa rosa? Bu, una medicina? Oh, bu, sarà... Non lo so, ogni tanto io prendevo tipo delle siringhe rosa, ma tipo che me le berevo, no? Forse è la siringa per diventare Barbie! Oddio, può darsi! Mi sa che dobbiamo uscire! Eccoci qua! Oddio! Ma siamo andati praticamente, Zoe! Sotto! Oh, mamma mia, siamo... Siamo sotto terra, siamo nel nether! Guarda, non oserei veramente crederci che ogni volta sotto l'ospedale c'è, sai com'è? Una lava! Oh, un inferno! Oh, magari buttano le persone che sono passate dall'altro là! No, non credo che buttano le persone sotto così, negli scantinati dell'ospedale e le lasciano a Lizzo, eh! Non credo che funzioni così! Oh! Oddio! Sto andando un sacco veloce, cara! Go fast, ragazzi! Oh! 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 Oddio! E ora? Oh, mamma mia, non vedo niente, sono tutti in prima persona! Ok! Uh! Bene! Siamo arrivati! Guardate, c'è un ascensore! Ma per farla funzionare, quell'ascensore, ragazzi, lasciate like entro tre secondi! Adesso! Tre! Sì! Due! Uno! Ok, ora dovrebbe funzionare! Allora, andiamo! Ok, Zoe, ci sei? Oh, sì, ah, già è funzionato! Quanto veloce è questo ascensore! Ok! Oh, questa è lava, Zoe, stai a terra! Ah, siamo dall'altro posto rispetto a prima! Chiaro! Ok, andiamo allora avanti! Oh, no! Oh! Qui somewhere... No, no, dobbiamo trovare un modo per scappare, Zoe! Forse è dentro la sua bocca! Sì! Siamo dentro la sua bocca! Oh, guarda i filini di bava che li stanno qua! Oh, è vero! Oh! 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 Che collo lungo ha questo? Una giraffa? Ma... Che sacco! Aspetta, ma sei riuscito a superarlo? Sì! Come sì, vero? Sì! Oh, pure io, pure io, pure io! No, io non ci sono riuscito! Ma credo che sia normale, solo che non dovevo saltare io all'ultimo! Sì, eh già! Ok, arrivo, eh, arrivo, eh! Oh! Canestro! Oh! Ci sei! Sì che ci sono! Andiamo avanti! Esatto! Vabbè, io salgo così tutto insieme! Vedi quanto sono bravo che mi faccio i salti alti? Ecco qua! Guarda il cuore! Guarda come pulsa! È il cuore di ogni persona che gioca a Roblox! Pulsa così il nostro cuore, il Robloxiano! Ok! Ci siamo! Dai che ti aspetto! Ma cosa dovrebbe essere precisamente queste cose qua in mezzo? Boh, non lo so! Boh, non lo so! Ma cos'è questa lava? La lava dentro il corpo umano? I succhi gastrici, sbri... Ok, è molto strano! Ok, arrivo! Così immagino strano delle ossa! No, che schifo! Perché dovrei morire col sangue? Ok, eccoci qua! Ok! Magari ce l'ha infetto! Che schifo! Dai, per favore! Non credo che ogni persona c'ha il sangue infetto e ci muore se lo tocca! Ok, pick a path! Ok, devo scegliere la giusta direzione! Ovviamente che so che sono morto perché io devo beccarmi quello sbagliato! Vai, Zoe! No, sì, vai! Ma dai, ma vai, affanbagno! Vado io adesso, ok? Ora è al centro! Mannaggia! Oh, ma l'ho spremato sempre la seconda volta e non ha mai funzionato il centro, porca miseria! Ah, ci riprovo! Arrivo, 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 arrivo! Ora il centro funzionerà! Dai, 3 e 1! Funziona! Ma veramente non funziona mai! Io non ci voglio credere, veramente! Sono alibito! Alibito! Vai, ma perché? Ma perché tu come fai a beccare sempre quello giusto? E non capisco! Non te lo dirò mai! Aspetta, c'è qualcosa di qua sotto che te lo dice, magari? No! Ok, in realtà è stato solamente fortuna! Andiamo! Ah! Ok, sono morto! Niente! Ok! Non ho capito! Ok, ci siamo! Ci siamo! Ci siamo! Oh, sì! Sono più avanti di te! Oddio! Questa è la colonna vertebrale! Guardate ragazzi! Questo tipo! È dove mi sta a salire! Però... Cos'è quello lì sopra? Il cervello? No, è il cuore! Un altro cuore! Quanti cuori ha questo paziente? Uuuu! Mamma mia! Forse l'hanno operato! Gli hanno infilato un altro cuore per sbaglio! Gli è caduto per sbaglio, no? No, funziona ovviamente! Tipo computer con due schede video! Certo! Andiamo, andiamo! Eh... Salgo le scale! Che è la colonna vertebrale! Ma... Ok! Eccoci! Siamo arrivati! Oh mamma mia! Cosa... Perché ci sono questi così qua? Cosa dovrebbero essere? Ehm... Venemobili! No! Sono morto! Dai! Ero arrivato quasi alla fine! Andiamo! 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 Oh no! Oh! Ok! Ci sono... Ok! Oh no! Oh! Cos'è? Dove è benessere questo posto? No! Cos'è? No! Non dirimelo! Ho capito! Ah! Che schifo! Ecco! Queste erano quelle cose che stavamo tipo tentando di sviare! Hai visto? Siamo appena stati cagati! Che schifo! Ma perché mi dici queste cose? Ma non dirmene! Ma cioè... Fai prima a non dirmene! Zoe! Non me le dire! Non me le dici! Basta! Per favore! Oh mio Dio! Che schifo veramente! Dai forza! Ora siamo nelle fogne! E ovviamente... E quindi siamo cacca nella cacca! Esatto! Mamma mia! Tu sei più vicino alla cacca perché sei rossa! Io sono blu! Cosa? Ma siamo ritornati di nuovo qua! Oh no! Ma non è possibile! Oh Gesù! Aspetta! Aspetta mi sto parlando un tizio! Che cavolo è successo qua? Ma ci sono dei mostri! Eh già! Ma che cavolo... Oh mio Dio! Questo è quello che è accaduto quando siamo scappati noi! Cavolo! Eh mi sa di sì! Tutto infetto! È tutto schifoso! Che schifo! Ok! Ma come... No aspetta! Ma ero passato! Come ho fatto a morire? Cosa? Non lo so! Ma anche io! Ma non ha senso! Ma non capisco! Che dobbiamo fare? Aspetta eh! Ok ci sono riuscito! Non lo so! Strano! Ok! Andiamo! Io sto andando avanti! Ma io passo! In questo modo! Aspetta! Non è giusto! Dai dai! Ti sto aspettando! Oddio sono a fianco a un tizio malato ragazzi! Ma che cavolo! Oh no! Ok! Ok! E adesso? Oh! Non state scoppio! Oh! Attenta! Attenta a non cadere! Oh mamma mia! Sto attento! Il fatto che stiamo comunque camminando insieme già non ha proprio senso! Oh! Ci siamo divisi! E ora ci riuniamo! Ok! Ok! Sticchiamo qua bene! Ma i pisturi! Attenta! Attenta! Ma cosa? Ma davvero? Ma io pensavo che non morissi! Che se tipo non toccavo la lama! Porca miseria! Dai vieni Sbri! Andiamo! Ma sono partiti di nuovo! Ma Sbri! Mannaggia me! Mannaggia me! Mannaggia me! Mannaggia me! Devi saltare! Sai come si salta? Sì sì sì! So saltare! So saltare! Ecco così! Così! Così e così! Oh! Finalmente! Andiamo! Ok! Cosa? Che cosa? Le zombie! Cosa? Gli zombie? Che? Oh no! Oh! Oddio! C'è il dito! Velocissimo! E siamo all'interno tipo di una sorta di portale solo per gli zombie! Dobbiamo entrati dentro veramente la bocca dello zombie adesso! Dobbiamo entrare... Oh no! Oh Gesù! Ma hai i denti pure nella trachea questo tizio! Che schifo! Ok! Cioè praticamente mastica molto bene... Sono morta! Dico mastica molto bene questo tizio! Pettosto che masticare solo all'inizio continua a masticare per tutto il resto così mastica gradualmente! Sì esatto! Lo puoi ingoiare direttamente! Anche se qua questa mano non mi sembra molto masticata bene! Ok! No! Cavolo! Sono morto! Dai 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 dai! Riproviamoci! Tanto sembrerebbe essere semplice! Ok! Andiamo! Ok! Andiamo! Confermo che non mastica molto bene! Andiamo! Perfetto! Ci sono! Ma continui a morire eh! Sì! Eh! Uno! Aspetta! Aspetta! Tre! Quattro! E cinque! Eccoci qua! Ci siamo! Oh mio Dio! Ma c'ha pure i denti qua! Ma hai i denti ovunque questo tizio! Ma è possibile! C'è saltare sopra i denti? Ah no! Ok! Dobbiamo evitarli ovviamente perché sono fatti tutti quanti appuntitini! Ok! Riproviamoci! Oh! Oh! Ok! Dai dai! È molto semplice! Ci siamo! Oddio! Oh! Almeno questo ha una gabbia toracica normale! Oddio! Perché ci stanno delle cose qua in mezzo così! Tranissime le ossa qua! Ok! Oddio! I cervelli che ha mangiato questi qua sono! Perché logicamente lo si ciba dei cervelli! Esatto! E adesso? Cos'è? Oh no! Questa è la cacca! Questa è la cacca! Dobbiamo tentare... Di nuovo no! Ok! Ok! Eccoci qua! Un falon di nuovo! Dove sono? Oh! Sono uscito! Non so da dove! Ok! Wow! Siamo fuori Zoe! Ok! Ci sono anche io! Ma quello è il sedere! Che schifo! Siamo usciti dal sedere! Oh cavolo! E questo? Come faccio? Ok! Così? Mamma mia che paura! Va bene! Andiamo! Aspetta! Perché io sono vestito da ospedale? E tu no? Perché io... Io sono scappata... Cioè prima non mi ero... Perché non volevo mettermi le cose! Cioè... Ah ecco! Ok! Andiamo! Oddio siamo di nuovo! Non dimentiché non aspedale! Cavolo! Aspetta! L'ho preso il checkpoint! Già purtroppo! Non dimmi che non l'ho preso il checkpoint! No l'hai preso! No aspetta! L'hai preso! L'hai preso! No! Ok sì! L'ho preso meno male! Mamma mia! Non mi è comparso prima come... Come prima capito! Quindi avevo paura! Ok! Ok dai! Ma che pulizia questa lava! Attenzione! Ok ci siamo! Oh ok! Cosa? Oh 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 ok! Posso cittarmela tipo da qua? No non posso! Non puoi? Ti ha fatto cadere? Eh già! Non puoi farlo! Non puoi farlo! Non puoi cittartela! Ok! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Sei! Salto! Ma continuo a morire! No! Sfri! Dai! Ce la puoi fare! Sì credo che ci posso riuscire solo che devo essere molto più... Ecco! Più preciso e salta più alla fine! Eh! Ah finalmente! Bravissimo! Era qua! Ok andiamo! Andiamo! Cos'è questo? Una piscina? Ah no! Lei di laser! Una piscina! Eh no pensavo che fosse una piscina da lontano! Ok perfetto! Ci siamo! Oddio dobbiamo salire di sopra! Oddio c'è uno zombie! Ah eccoci! Ok saliamo! Make your way to the... Jump inside of the... Ok va bene dobbiamo salire sopra il... Ok! Ascensore da questa parte! Se mi facesse parlare... Ok! Andiamo! Perfetto così! E poi da questa parte... Ok! Sono caduta! No! Sono sbrigati! Io mi sto sbrigando! Ok bene ci siamo! Adesso dobbiamo andare qua! Sì! Siamo dentro! E adesso? Ok! Questa parte? Oh no! Siamo in un'altra zona X-ray! No però questa... È uguale! È uguale! Ma appunto è uguale! No però non c'è più il tizio dentro vedi come... Non c'è il tizio dentro! Sì! Che strana questa cosa! Ok! Bene! Ci siamo! Andiamo avanti! Oddio è caduto quel tizio! L'ho fatto cadere! Ok! Continiamo! Continiamo! Farlo sbrig! Oh sì! C'è altro che se dobbiamo farlo! Ok ci siamo! Ok! Ora saltiamo avanti! Ok! Di nuovo! Basta! Ma ha allungato semplicemente il brodo con la cosa dei zombie! Adesso è uguale! Ah già! Non voglio più farlo questo coso! Cacchio! Oh mio Dio! Ascensore! Questo qua non c'era però! Esatto! Gli chiamo! Ok! Perfetto! Andiamo! Ok! Dindon! Ok! E adesso? Dove stiamo andando? Ah! Stiamo salendo nel tetto? Siamo in un piano altissimo! Attento a non cadere da qua! Ok! Ci siamo! Ok! Andiamo qua! Bene! Wow! Ma ci sono i grattacieli! Sì! Dobbiamo salire sulle cose del tizio! Dello zombie! Ok! Ma prima questa cosa ci faceva morire! Adesso non ci fa più morire! Eh! Usa le scale per salire sopra la struttura! Ok! Va bene! Sì! Andiamo! Da questa parte al contrario! Andiamo dall'altro lato! Eh! Vabbè! Ok! Andiamo! Ah! Ah! Ok! Finalmente! Oh cazzo! Stiamo nel tetto adesso! Attento a non cadere! No niente! Volevo cittarmela di nuovo ma non ha funzionato! Ma perché pensi sempre veramente che... Le persone vedi che si ingegnano tutto per non farti cittare! Stai attento! Eh beh! Magari non ci hanno pensato! Ok! Ci siamo! Saliamo! Ma dove stiamo salendo? Ah! E poi dobbiamo cadere praticamente nell'altra struttura che sta lì in fondo! Quanto cavolo è che era alto questo... Questo ospedale? Moltissimo! Oddio! L'ho cliccato! L'ho cliccato però mentre mi stavo leggendo! Cavolo! Aspetta però ci sono riuscito! Sono riuscito ad arrivarci comunque! Però mi sono visto da lontano che andavo! Non l'ho vista io in prima persona! Uffa! Ok! Adesso arrivo io! Vai vai vai! Ok! No! Mannaggia sono morto! Andiamo Zoe! Oh! Ok! Adesso! Adesso! Oh no! Be careful because it's a slippery! Oh no! Ho capito! Forse dobbiamo andarcene di sotto! Pronta Zoe! Ok! Oh! 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 L'in fondo! L'in fondo! L'in fondo! L'in fondo! L'in fondo! Ah! Ci sono l'ho fatto! Ok! Ok! Perfetto! Ci siamo! E adesso? Aspetta! Oh! Stiamo uscendo! Ah! Siamo usciti! Mi raccomando ragazzi andate a cliccare questi altri video che sono appena comparsi mentre io corro velocemente! Iscrivetevi al canale! Lasciate like! E mi raccomando perché i video di Roblox sono tutti quanti da noi! Ciao ciao!